buongiorno a tutti belli e brutti un bacione da michelone un bacione a tutti belli e brutti buon martedì di champion a tutti con la pioggia di nuovo piove sta un po rompendo i coglioni sta pioggia qua però lasciate che piova ragazzi lasciate che piova che dopo perché io già vi sento dopo adesso tutti quanti poi quando finirà di piovere quando finirà la pioggia poi ci sarà il sole e comincerà il caldo il caldo il caldo e già fra una settimana incomincerete a rompere i coglioni o non piove mai ha incominciato il caldo troppo caldo perché già lo so già lo so come siccome come ragionate scherzo ragazzi comunque della verità è dopo andare via la pioggia comincerà il caldo io il caldo lo odio perché io l'estate la odio la odio finché a primavera autunno io sono io sono un orso no che dovrebbe stare in groenlandia in non lo so in canada quelle parti la norvegia svezia io starei bene lì no io il caldo lo stra odio lo stra odio acqua e l'affa che non riesci neanche a respirare invece quando arrivi casa bene il caminetto acceso tutto il caldo tutte le cose lì ti metti nell'acqua bollente lì qualcosa come vedete nei film con la fascetta intesa che cazzate che sparo stamattina no ragazzi bacione allora oggi champion oggi sempre vediamo vediamo se riesce a passare il borussia intanto che vada in finale borussia poi poi vedremo vedremo chi ti fare perché no non voglio che la vinca il psg e ragazzi quelli lì è l'ultima squadra della champion è l'ultima squadra a parte quelli è quelli lì proprio è la proprio la ultimissima no che non vorrei mai che vincesse la champion io spero 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 che investano che investano che investano e che non la vincano mai e che non la vincano mai 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 perché sono anche quelli la di maledetti come dico sempre speriamo che il borussia tenga duro anche perché lì parco di principi se non sbaglio si chiama lì il coso lì lo stadio del psg mi pare il banco di principi può essere o mi sbaglio non lo so buon comunque e lì e lì sarà sono cazzi perché il borussia fuori casa e c'è il psg fuori casa non vale un cazzo è è proprio una squadra una squadra normalissima però in casa in casa sono cazzi quindi uso un solo 1 a 0 lì va vedremo stasera poi domani ci cuccheremo quella penso che stasera facciano vedere questa partita se l'altra volta hanno fatto vedere bayermona con la madrizza se lo farò vedere psg borussia comunque ci vediamo stasera una partita che sicuramente sarà gradevole non sarà la porcheria che propone il becca morto e poi c'è non è che c'è tanto da parlare oggi comunque ieri la mia udinese ha pareggiato meno male non ha perso dai udinese adesso c'hai tre scontri diretti c'hai lecce frosinone e il coso lì tutte le ultime tre squadre c'hai da affrontare devi fare un miracolo devi vincere almeno due devi vincere adesso c'hai lecce vai a lecce che mi pare che lecce dovrebbe essere già salvo se non sbaglio poi mi pare l'ultima c'è il frosinone e c'hai l'empoli c'è tutti i tre scontri dietro te le devi giocare la moda udinese non andare in serie b ti prego non andare in serie b porca di una puttana dai su cazzo di un cazzo ma ma in serie b udine ma che quanto in basso sei caduta e sì che ti abbiamo regalato anche tre punti è l'altra volta la juve perché ti ha regalato tre punti dai su cerchiamo di essere onesti io sono onesto la juventus gli ha regalato tre punti l'altra volta dai su e napoli napoli ecco ecco qui è il punto a dove batto adesso il napoli ascoltate bene quello che vi dico e poi poi capirete perché batto sempre lì batto 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 poi del resto non me ne frega niente del resto è il can che faccia quello che vuole giuntoli che tanto mi tanto mi fido di giuntoli però su quella quella roba lì sapete che io batto 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 è perché è giusto così ragazzi adesso il napoli probabilmente se le prime cinque vanno in cempio la sesta e la settima vanno penso europa lì forse 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 farà la conference il prossimo anno il napoli forse farà la conference quindi la conference probabilmente l'allenatore butta dentro le riserve soprattutto nei gironi che c'è è come giocare con la gradese qui che cazzo no poi appena appena ai quarti semifinali cominciano a diventare un po serre le partite quindi la conference è un sarà un una 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 competizione di allenamento per il napoli quindi il napoli avrà praticamente a parte la coppa italia ma quella lì è in febbraio lì no avrà solo il campionato e quando c'è solo il campionato chi è l'allenatore che ci sguazza bene quando c'è solo una competizione quando c'è solo il campionato qual è l'allenatore che sento da voi qual è l'allenatore che ci sguazza specialmente quando c'è una competizione perché lui punta principalmente a quello qual è l'allenatore sentiamo sì sì lo sento che lo state dicendo è proprio lui antonio conte allora ho sentito ieri che l'antonio conte sarebbe la seconda scelta io adesso la prima scelta non lo so qual è perché sapete quando si parla tanto 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 di una cosa poi non accade mai ormai tutti sono convinti che ti ha molta varia allegra già licenziato è già licenziato perché a detta di tutti anche sentivo il sergio lì che diceva che cresitelli ho detto che questo qui dove volevano già mandarlo via l'altrano solo che sapete la storia di di dell'orenti l'anno hanno rimarcato di nuovo la storia di questo di questa di quello che è successo spalletti non doveva andare nazionale spalletti doveva venire la juventus con giuntoli quindi questo doveva essere già mandato via l'altrano questo qui è rimasto alla juventus solo per per un caso per un caso perché la juventus doveva prendere giuntoli e spalletti quindi se si poteva mandare via l'altrano quest'anno ancora più facile deve pagare solo un anno di contratto questo qui che vada fuori dalle bale poi cosa ha detto prima diceva sempre c'è un anno di contratto adesso cosa dice sempre a deciderà la società alla fine io credo che dopo la coppa italia quindi abbiamo ancora cosa oggi il 6 7 abbiamo ancora 9 10 giorni da da sopportare questo qua abbiamo ancora 9 10 giorni ragazzi poi credo che dopo la finale di coppa italia sapremo chi sarà il nuovo allenatore della juventus ormai i giochi sono fatti dopo la coppa italia abbiamo ormai il bologna ormai bologna e il monza ormai giochi penso siano fatti ormai con questa partita di domenica che poi tra l'altro tra l'altro l'atalanta l'atalanta che ha vinto ieri a salerno e a sei punti da noi con una partita da ricoperare contro la fiorentina se vincesse quella partita che la fanno a fine campionato quindi già non va bene per quelle che sono dietro già non va bene perché questo è un campionato falsato c'è a parte quelli la che hanno rubato strarubato hanno rubato anche alla madonna quelli la quest'anno ma adesso si va verso una falsificazione del campionato perché questi qua recuperano una partita alla fine del campionato e c'è cazzo qui tre punti la non sai se vanno la fiorentina se vanno l'atalanta se magari viene fuori un pareggio se vince l'atalanta adesso viene va a tre punti da noi a tre punti c'è praticamente la roma sarebbe già fuori praticamente la roma per rientrare deve vincere assolutamente la partita contro di loro adesso quando è la partita sabato domenica praticamente la roma è obbligata a vincere contro l'atalanta perché se anche con pareggio penso che la roma va a farsi l'europa league è interessante questo ragazzi importante perché il bologna bene o male naviga lì il quarto posto io penso che la juventus e il bologna arriveranno un biscottino alla penultima gli darà il biscottino un pareggio un punto tranquillo poi però l'atalanta guardate guardate che un casino è c'è recuperare una partita una partita fondamentale come fiorentina anche per la fiorentina perché non si sa se va in conference se non puoi recuperare una partita fine campionato ma io non lo so al limite sposta la coppa italia come ultima partita e metti a giocare fiorentina atalanta adesso il 15 maggio la recuperi almeno due giorni prima la partita la finale la giochi dopo il 15 cioè non mi pare di aver detto chissà che roba no perché questo è un campionato falsato per roma atalanta fiorentina lazio bologna e in parte anche la juventus perché non è che la juventus sia distante proprio distante 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 quindi non so ragazzi io non comunque vedremo vedremo cosa cosa faranno non puoi recuperare questo è un campionato finale strafalsato quelle due squadre dai cazzo su poi tutte le altre partite l'hanno recuperate l'inter tutte quelle lì perché questa era una partita di di se non sbaglio di quella di quella famosa supercoppa no da recuperare e come mai questa non si recupera mai se non sbaglio è non era quella partita della supercoppa o l'hanno o l'hanno blocca comunque scrivetemi sotto c'è una partita da gennaio recuperarla a maggio inoltrato ma non ma non è dai c'è solo in italia ragazzi solo in italia fanno sta roba qua adesso io vorrei che veramente che i i presidenti e li capisco il presidente delle squadre se adesso si incazzano sta roba perché veramente non sei adesso questa squadra se va in se va se va in conference se va in uefa se va in champion si sa un cazzo comunque ritornando il coso dell'allenatore el can el can el can ragiona ragiona el can ragiona conte non deve essere la seconda scelta conte deve essere la prima scelta conte non dico che firmerebbe in bianco per tornare la juventus ma sicuramente sicuramente si porterebbe lo stipendio al minimo al minimo al minimo al minimo al minimo al minimo lasciate perdere con cosa lo paghi conte conte prende un fracco di soli per tornare la juventus quello venderebbe anche il culo credetemi ragazzi poi sui giocatori possiamo ragionare chi mandare via chi tenere lui sa già quello che deve fare conte sa già quello che deve fare quindi ragazzi credetemi e dopo è anche un fatto un fatto che io non è perché e oddio conte oddio se non riesco a stare senza conte è per questione personale è per interesse è per interesse tu mi riporti la juventus lì e poi quando tu avrai fatto il tuo lavoro prenderò un allenatore moderno un allenatore al posso posso prendere anche il tiago motta poi ma dopo fra un paio di anni quando la juventus sarà tornata lì avete capito il mio il mio ragionamento cazzo capitemi porca di una puttana poi per ultimo parliamo di questa cosa lì che adesso dovranno fare questa nuova agenzia per contro pensate che bomba hanno fatto scoppiare soprattutto già identità bianconera bravi 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 andatevi iscrivervi al loro sito perché lo meritano andatevi iscrivervi al loro sito al loro canale tutto quanto perché stanno facendo le cose per bene stanno smascherando un sistema di quegli sporcaccioni perché quelli lì sono degli sporcaccioni addirittura sentivo che è che la coviso era diretta da una una cosa della team questi hanno un animi una ramificazione avete visto come sono la ragnatella corragno ieri sul video questi hanno una ramificazione che stanno prendendo tutto 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 ogni cosa ogni in ogni associazione ogni c'è uno di loro 2 barra 2 che controllano addirittura quell'altro lì il presidentino andava andava a vedere i processi e che si che della fisicità controllava tutti i processi che si stavano a vedere che tutto andasse come voleva ma c'è ma stanno venendo fuori delle robe ragazzi delle robe con quelli la adesso io non lo so se questo altro se questo altro quest'altra cosa che devono non mi viene il nome quest'altra tipo coviso che verrà fatta se verrà fatta verrà fatta appunto scusate cosa di parole per fare le cose per bene perché questa coviso che adesso è compromessa adesso come ti puoi fidare tu di una di un'istituzione ecco istituzione che dentro ci sono ci sguazzano quelli la c'è non ti puoi fidare adesso adesso pare che adesso si aggiorneranno tutti che il signor lì a body ha convocato tutti gravina quelli lì per parlare ragazzi guardate che non è una roba seria questa è una roba seria c'è qui non dico che scopiare una nuova calciopoli è però quelli là hanno messo le zampe dappertutto ma quello che mi fa che mi che mi gira di più i coglioni che quelli che dovrebbero vigilare quelli seri la giustizia quella seria perché noi non abbiamo una giustizia seria in italia non è mai stata seria o uguale per tutti mai 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 però quelli che dovrebbero vigilare guarda c'è se ne sbattano c'è deve essere il tifoso o magari un'istituzione piccola come j come identità bianconera o come qualche 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 youtuber a far aprire gli occhi a questi qua se no se no se ne sbattono i coglioni ma secondo voi è normale questo cioè noi dobbiamo a far aprire gli occhi a questi qua che adesso controlleranno vedrete vedremo se faranno le robe come dio comanda o se questa istituzione sarà fatta solo per coprire il culo a quelli là vedremo come come andrà a finire questa storia perché io sono curioso ve l'ho detto tante volte che le partite si vincono fuori dal campo politicamente non pensate che ci sia solo il campo ragazzi non pensate non pensate a questo avete visto anche sabato lì domenica sassuolo sassuolo inter che schifo che schifo quelli lì si sono messi già d'accordo prima ti dai tre punti tu frattesi me lo fai pagare ma ma pensate che siamo stupidi pensate che siamo stupidi comunque ragazzi abbiamo parlato un po di tutto tornando all'allenatore conte deve essere la prima scelta hai capito elca hai capito elca guardami guardami elca hai capito conte deve essere la prima scelta non fammi incazzare e manda via il becca morto dopo la copitaia mandalo fare in culo calcio in culo e via calcio in culo e via bacione tutti belli e brutti scrivono il canale mi raccomando lei campanellina ragazzi fatemi arrivare almeno 2.000 iscritti porco è dura è con voi è dura almeno 2.000 iscritti dai mancano 50 55 56 dai su ci saranno 55 56 anime che vogliono bene a michelone su cazzo cazzo su dai ragazzi un bacione a tutti i belli brutti mi raccomando anche qui vedete o abbonatevi sostenete il canale ragazzi perché poi potete essere sorteggiati voi per i regali volete una maglietta originale della juventus o una tutta originale della juventus per andare allo stadio gatti fare juventus a farvi i selfie ecco uno di voi magari verrà estratto uno di voi poi vi dirò il giu quando arriveremo il punto vi dirò il giorno che ci sarà l'estrazione ok ragazzi o va scappito vostro e sennò fate quel cazzo che volete è quindi muovere il culo è ciao ragazzi a tutti i belli porti un bacione fatti bravi è